Ciao amici, benvenuti nel quinto episodio della nostra carriera con l'Inter, prosegue la nostra avventura con la maglia nera e zurra. Mamma mia ragazzi, vedendo la classifica, nella scorsa puntata siamo fermati a pari punti con la Juve, mamma mia, è una sfida tra Juve, Inter e Napoli, Napoli che sta messo a 25, invece Inter e Juve sono a pari. Attenzione la Salernitana, curva di scena al quarto posto con la Roma quinta che le precede, oggi ragazzi andremo a giocare la partita contro la Roma, l'Atalanta e continuano la nostra avventura in Champions per poi giocare con il Frosinone e poi ci sarà il derby, il derby ovviamente. E poi il Benfica, poi penso che siamo arrivati al mese di dicembre con il Napoli che se tutto andrà bene dovremo usare una sfida a sorte, sfida a scudetto. Vorrei assolutamente arrivare in questo video al mese di dicembre per poi cominciare il mercato di gennaio che ragazzi dal mercato di gennaio, allora ho deciso di non puntare più su Martel, il nostro generale ambito difensivo, delle cose un po' più specifiche ma forse l'avessi già capito. Allora questa Salernitana, Salernitana mi dice, mi sei volevo ringraziare per avermi dato la possibilità di farvi vedere il contributo che posso dare a questa squadra, è stata una esperienza incredibile, puoi avere un futuro qui, ovviamente, incoraggiamo ragazzi, l'importante ragazzi, vedete scherzando, è incoraggiare il giocatore, che è la cosa fondamentale, se non la incoraggio, un po' male, 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 ovviamente, Salernitana lo faccio giocare facendo freddare un po' loro. Cominciamo male, non ci vogliono squalare, attenzione, Andriano, 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 Andriano. Andogni inter,ludori mario, per il volo in per guy. attirare la rinfa la rinfa parte la rinfa può crescere la minfa che difensore che pre come resta la rinfa la rinfa la rinfa la rinfa la rinfa interagisce bene ripetito ma la rinfa la rinfa niente da fare abbiamo provato se c'era anche sanchez per la rossa sanchez cristiane l'interno 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 apposta su apra funziona la rinfa della tazzaria la gira su una rossa sanchez l'interno la tazzaria l'interno l'interno la rinfa l'interno 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 barella barella becolò incolò questo è fallo si batte l'interno si prova vai l'altaro vamo vamo niente da fare prendo il portone per sanchez se dico ma che fai ebram ebram mamma mia se la parto è tutta la difesa va bene la fascia scoperta ebram 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 libido carlos c'era una ribattuta la trinitina bastone aslan il il l'interno 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 l'unica l'anima il canto della linfa niente da fare due due l'interno quindi l'interno no l'interno i testi abraham non prende la Roma cercare la ninfa non sa, prova a reagire L'autaro ma ti ne so L'autaro L'autaro Per Barella La ninfa La ninfa La ninfa La ninfa Ma non è zero Si Si da San Siro E i tifosi della Roma ad esultare Dipendiamo Cominci il secondo tempo da Inter Palla per uno messo Palla per uno messo Pena ha dato Sanchez Quando posso palla per la propria metà campo possono permettersi di rallentare C'è spazio per la ripartenza C'è spazio per la ripartenza Io voglio far riposare L'autaro Per far giocare il ragazzo Meraviglia Sanchez Che si prende pure la fascia Ciao tutti con te ragazzi E mezza Meraviglia La Ci sono metri per andare Hanno difeso bene Qui il tecnico può essere abbastanza soddisfatto Turam Turam Inizia il grino Fonditamente a recuperare la palla Sanchez Turam 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 Sanchez Ciala 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 Noglu Fiorente Mamma mia E c'è Ebram L'unico uomo che ha scherzato la partita E entra qui Bala Sanchez Turam Turam Ciala Tira Parella Varello Varello Niccolo Il piccolo nicolo Varello La partita Sanchez 1 a 1 Varello La partita Varello Varello Suomi parte in parità Giulia che puoi ancora sperare nella limone Per il mio interno! Turam! 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 Il Patricio! Ancora! Turam! 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 Amno! Tizio del Barella! Tukaku! Tukaku! Vai a lì! Mamma mia Sanchez! Tinko! E' niente! E' niente! Ok! Ultimi minuti ragazzi! Ultimi minuti! Sanchez! 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 Con la fascia! Con la fascia! Con la fascia! Con la fascia! Riesce a rubare palla un mese! Sanchez! E' spiazza di Patricio! Ale Sanchez! L'uomo dell'ottantesimo! Ale Sanchez! Due a 1! L'uomo dell'ottantesimo! C'è l'aperta! C'è la nuova cinza fortesi! Eliniter gioca sulla difensiva! Può cercare di cambiare il bancotto! Intern su Lukaku! 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 Lukaku? Unti Summer! Dio! O-o! Mamma mia Mamma mia no ragazzi Non ci posso vedere Non la condanna a morte No No Lukaku Fischiatelo Fischiatelo Non è possibile Duram Niente da qua ragazzi Questa è mafia Questa è mafia Ultima occasione Ultima occasione L'inter ci vuole riprovare Sanchez Sanchez Tira l'Inter 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 E' l'inter No No Così se non fosse fatto Quello Questa è fatto quello Fallo sciocco Non è niente Un errore Che ci consta caro Ma un punto buono 23 punti Mamma mia Perdo seguito il pallone L'anico Caccia di funzione per l'Inter Batte Carlo Soluto Attenzione Carlo Soluto si bevara La mettere dentro per l'Altaro No Intervento è finissimo del portiere Intere in attacco Andiamo a sperare nella Juve Se no Niente Nell'In Champions Ragazzi siamo messi bene Il campionato un po' Così 24 punti Però La scalata precede bene Ma non ci possiamo Passare con Un misero punto Poi c'è il Frosidone Che ce la giochiamo Con tutta tranquillità Vediamo se sta 100% Durango Altro che 100% Brumatti Vernantovic Lautaro Confermato Tutti confermati Caccia di inizio Qui dobbiamo portarci A 28 punti Ho fatto la linea Il Belgio Ma non mi interessa Mamma mia Ragazzi Napoli che ancora Si conferma sempre di più Campione Contro la Juve Vietato sbagliare Vietato sbagliare Contro la Juve Confermo sempre di stessi Il derby d'Italia Vietato sbagliare Ragazzi O vinci o l'ho perti Cioè Niente pareggio Con il pareggio Non ci possiamo manco Consolare Con il pareggio Perché già ne abbiamo Votuto più in casa Quindi Ora vinciamo Certo Sero bene Inter può attaccare Inter 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 Subito 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 La confusione Palla spazzata via A CERB Berniano Fretese Turan 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 Ancora l'Inter E' quello non ce l'ho fatto Fischialardi per una posizione di regola Ma tutto troppo Fischialardi a ventala sui passati a Piataro Turan 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 2-0 Marcus Turan Senna l'Inter 2-0 Marcus Turan La pantera nera Funzionava ancora ragazzi Ruogo Ben Hamlet Ti ru procure lished Lبح vedere Turan Mit Ale Turan 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 Attenzione No Car以上 Lese Come Il Comunico l'arrivo non c'è il recupero del pallone c'è il primo che aveva il compagno salvali l'inter salvali l'uente mamma mia presso il portatore di palla il contatto il contatto il contatto il gioco per te il gioco il gioco il gioco stesso troppi errori per aiuto c'è la nuova, c'è la, c'è la, c'è la furam, ma non è mia, che si divade la tripletta scesi, Danilo, cross-ditch Da Danilo, tra la parabio, subito fra atesi, che mi so questo pallone ma ecco Varella Varella Va Rattisi 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 Scherzi Scherzi Un minuto di toto Scherzi Dam là Fimpostiamo a 15 Mướng, Girone haαθators Ho 28 punti nuratNE è decisiva si porta a 32 ci possiamo portare pari con il Napoli sperando che il Napoli ovviamente faccia un bravo ovviamente questo video può anche finire qui la prossima andremo a giocare proprio con la decisiva contro il Partenopei poi c'è contro l'Udineta la Real Sociedad e poi la Lazio Lecce e ancora e inizia il nostro viaggio nella Supercoppa contro la Lazio attenzione che potrebbe segnare il primo trofeo di questa carriera allenatore e poi chissà penso che cominceremo il mese di gennaio mese importantissimo ragazzi che ci portiamo ragazzi sempre di più alla all'avanziale nella stagione quindi raga io ve l'ho detto l'obiettivo è il triplete almeno questo è l'obiettivo ma se il Napoli è la nostra sfida è il nostro maggiore ostacolo già abbiamo perso contro la Roma che è stata un'occasione d'oro e abbiamo regalato punti per la Champions alla Roma e noi vogliamo assolutamente portarci questo scudetto a casa oltre alla Champions quindi che dirvi adesso è tutto vogliamo vedere la posta noi ci vediamo al prossimo video lasciate like mi raccomando vi vediamo se è tutto tutto